La Torino-Lione non è un capriccio di pochi, ma un investimento per il futuro di tutti. Le associazioni di impresa si schierano per la TAV e alla vigilia del Consiglio Comunale, chiamato a discutere il documento a 5 stelle contro l'opera, chiedono che la linea ferroviaria sia fatta presto e bene. Sospendere i lavori della TAV non è accettabile, sostengono industriali, artigiani, commercianti e aziende, annunciando la presenza dei loro vertici lunedì in Sala Rossa. L'approvazione del documento pentastellato, affermano, significherebbe dire no a un territorio aperto all'Europa più competitivo e più efficiente. La Torino-Lione non è un capriccio di pochi, ma un investimento per il futuro. Gli imprenditori veri che creano PIL e occupazione vogliono certezza sulle infrastrutture e sui tempi della loro realizzazione, sostengono ancora le associazioni. Le imprese non possono più sopportare una politica che va contro lo sviluppo e la crescita.